Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi vi mostrerò come creare un articulation set per la Synchronized Special Edition di Vienna Symphonic Library. Innanzitutto, che cos'è un articulation set? Praticamente noi sappiamo che per cambiare le articolazioni di una libreria si può procedere in diversi modi. Uno di questi è mettere un'articolazione per ogni traccia, il che però nel caso ce ne servono davvero tante potrebbe rivelarsi un po' dispendioso sia a livello di risorse del computer sia a livello proprio di spazio sul progetto. A questo proposito ci vengono in aiuto i key switches. I key switches, come dice la parola, sono dei tasti della tastiera che se premuti azionano una particolare articolazione. Dovendo azionare dei tasti, i key switches però sono degli eventi MIDI che fisicamente si presentano nel piano roll. Quindi se per esempio vogliamo assegnare alla prima nota il portato, dovremo inserire nel piano roll sia il C0 che azionerà appunto le note corte, sia il C101 che azionerà il portato. Queste note sono presenti appunto fisicamente nel piano roll. Di conseguenza se poi noi vorremmo esportare la partitura oppure stampare la partitura direttamente dallo score editor, come vediamo, le note vengono segnate nello score editor, il che può rivelarsi problematico perché quelle note non devono essere suonate realmente. Oppure un altro contro è che se ad esempio mi trovo nella situazione di dover alzare o abbassare tutta questa sezione, se premo, seleziono tutto, poi alzandola e abbassandola vengono spostati anche i key switches. Di conseguenza esiste questa funzionalità che appunto in Logic si chiama Articulation Set per cui possiamo fare tutto questo senza però dover inserire nessuna nota aggiuntiva all'interno del piano roll. Per creare un nuovo Articulation Set dobbiamo andare in questa casella, premere su New e si aprirà questo menu dove andremo a inserire tutte le articolazioni che ci servono. Andiamo proprio a leggere, articolazione per articolazione, diciamo staccato, poi per aggiungerle premiamo su più. In questa colonna possiamo aggiungere il simbolo, non è necessario però è semplicemente un aiuto visivo. Una volta che avremo inserito tutte le articolazioni presenti nella patch dobbiamo andare nella finestra Output e a quel punto dobbiamo assegnare la nota che verrà azionata quando noi selezioneremo nel piano roll questa articolazione. Prima di tutto si indica il tipo di comportamento che questa articolazione dovrà avere sulla nota e in questo caso è Note On, di che significa che una volta che selezioneremo l'articolazione dello staccato verrà attivata la nota corrispondente. Qua vediamo che abbiamo soltanto uno spazio per inserire una nota di un key switch però alcune librerie, tra cui appunto Vienna, hanno bisogno che vengano azionate almeno due note per ogni articolazione nella maggior parte dei casi. Ad esempio qui lo staccato viene attivato premendo in contemporanea C0 e C1 il portato premendo C0 e C1 e così via. Per poterlo fare dobbiamo attivare gli Output Multipli. E a questo punto abbiamo la possibilità di assegnare più key switches alla stessa articolazione. Dobbiamo sempre inserire il comportamento che questa articolazione dovrà avere sulla nota corrispondente e poi andremo a inserire le note corrispondenti ai key switches di questa articolazione. Una volta che avremo inserito tutte le articolazioni dovremo salvare il settaggio andando su Save As e una volta salvato con il nome che vogliamo comparirà sempre in questo menu tendina che sarà reperibile in ogni progetto e tramite questo menu andremo a richiamare il tipo di articulation set che vogliamo. Per comodità ora vado ad aprire l'articulation set che ho già creato relativo a questo ottavino. Per mostrarlo o modificarlo dobbiamo premere su Edit ed ecco qui. Qui possiamo vedere tutte le articolazioni e nella finestra Output tutti i key switches a cui sono state indirizzate le articolazioni. Ora andando nel piano Roll vedremo che è comparso questa nuova menu tendina Articulation e se ci clicchiamo sopra possiamo vedere tutte le articolazioni che abbiamo appena creato nell'articulation set. Naturalmente dobbiamo ricordarci di attivare l'articulation set relativo alla libreria che stiamo utilizzando sempre andando su Articulation set e poi scegliendo l'articulation set relativo alla libreria che stiamo utilizzando. A questo punto non ci resta che assegnare alle note le articolazioni che dovranno essere riprodotte. Per farlo la procedura è semplicissima. Dobbiamo evidenziare la nota e indicare il tipo di articolazione che vogliamo che venga riprodotta. Quindi in questo caso possiamo fare sustain sulla prima nota forte piano sulla seconda poi le altre due le assegniamo allo staccato altre due le assegniamo ad esempio al marcato questa l'assegniamo allo sforzato e questa qui al trillo. E ora proviamo a riprodurre questa frase. Come abbiamo potuto notare le articolazioni legate ai key switches nella patch vengono azionate a seconda del comportamento che abbiamo impostato all'interno del piano roll. Grazie a tutti.